0404 parliamo del cavo bilanciato, dei cavi bilanciati, ma più in generale del segnale bilanciato. Prima di tutto devo dirti che sono molto contento perché questo è un argomento che quando mi è capitato di doverlo spiegare mi porta via tantissimo tempo, invece sono veramente contento che questo percorso didattico che stai seguendo mi porterà a spiegartelo in pochi minuti e questo mi rende molto orgoglioso perché ci metto sempre veramente tanto tempo a creare un percorso didattico all'interno dei miei corsi. Calcola che siamo arrivati alla 0404 e hai già seguito oltre 5 ore di lezione e scaricato più di 60 pagine di pdf relativi alle nostre dispense, quindi anche questa volta io ti spiego ma ovviamente hai nella tua dispensa tutto quello che riguarda la parte grafica, ti ho messo anche gli standard di collegamento eccetera. Quindi parliamo di segnale bilanciato perché mi ricordo ancora quando me lo spiegarono a fine degli anni 80 io veni assunto come assistente in uno studio, il fonico resident se ne stava andando, stavamo parlando di connessioni della patch bay dei Bantam, Bantam è scritto B-A-N-T-A-C-A-M, Bantam, se vuoi andare a cercare cosa sono, sono dei piccoli jack che vengono utilizzati nelle patch bay perché in una fila così ci metti centinaia di connessioni e mi spiego il funzionamento del segnale bilanciato, lo trovai veramente geniale, spero che anche questo ti apra la testa e ti faccia capire tante cose. Per esempio avrai fatto caso che a casa ma così come in sala prove quando si suona si cerca sempre di tenere i cavi più corti possibili e però dall'altra parte dici ma com'è possibile quindi che quando vado a vedere un concerto, faccio per dire vado in uno stadio e vedo che c'è il batterista che ha tutti i microfoni, tutti i cavi che escono dai microfoni vanno in una ciabatta per terra che attraverso una frustona così, quel cavo multipolare, fa decine e decine di metri che arriva dietro e spesso arriva in una split box che a volte è passiva e quindi fa altri metri, quindi comunque il segnale di un microfono fa decine e decine e decine di metri ma alla fine quando io sento, sento bene, non sento frusci, non sento il suono più scuro, mentre nel normalmente quando esco dalla chitarra se uso un cavo da 20 metri ho rumore, ronzio, il suono è più scuro, una serie di cose. Ecco questa è proprio la differenza e la magia del cavo bilanciato e quindi vado a spiegarti di che cosa si tratta. Allora prima di tutto il cavo bilanciato può essere collegato al cavo bilanciato, è un cavo prima di tutto fatto di schermatura e ha due cavi ma da una parte può avere o il connettore XLR che è quello che ti ho messo qui, vedi nel tuo PDF ce l'hai che quindi è quello che viene chiamato Canon perché Canon è stata la prima azienda che l'ha commercializzato, questo tipo di connettore. Però può anche essere collegato a un connettore che si chiama TRS che vuol dire tip ring sleeve che in realtà è quindi questo qui del jack che però in realtà trasporta la stessa cosa, quindi trasporta un segnale bilanciato. Esistono però degli standard di collegamento e questi sono importanti soprattutto quando il segnale è bilanciato ma poi se si deve sbilanciare. Vedi che quindi il cavo ha una schermatura che viene collegata di norma all'uno, vedi che sono poi opposti perché devi immaginarti di speculari perché il cavo se tu immagini di collegare il maschio che è questo alla femmina ovvio che quando vai a collegare questo va a finire di là e quindi sono speculari. All'uno colleghiamo la schermatura, al due eccolo qui il segnale normale, quindi in fase chiamiamolo, in realtà è normale, e il freddo che trasporta il segnale di polarità inversa. Ci tengo a spiegarti quindi in fase cosa vuol dire, cioè è il segnale normale dall'altra la polarità inversa, ok? Quindi quando noi risommiamo abbiamo una controfase, sono due polarità diverse. Quindi a volte se avrai visto che ci sono dei connettori che sono Canon da una parte XLR e dall'altra parte Jack Mono, quando è un Jack Mono il segnale sbilanciato. Per ottenere un segnale sbilanciato è importante seguire le caratteristiche standard, altrimenti per i motivi che ti vado a spiegare accadrà che avendo due cavi sbilanciati in modo diverso sarà un disastro se il suono è estero, cioè diventa veramente un grosso problema soprattutto ovviamente quando la connessione è estera. Nel Jack TRS seguo un altro standard, il tip c'è la punta e c'è il caldo, quindi questa è la punta ed è il caldo, il ring invece c'è il c'è il freddo e nello sleeve che è la schermatura si mette, cioè che il corpo del Jack si mette la schermatura. Va bene, ora che cosa succede? Cos'è la cosa importante da capire? Che, e te lo metto qui a pagina, attenzione, te lo metto qui, eccolo qui, te lo faccio vedere. Scusami lo ingrandisco perché così puoi vederlo meglio anche a schermo considerando che poi internet comprime la parte video. Eccolo qua. Allora che cosa abbiamo? Abbiamo il suono, che ipotizziamo appunto questo generatore di suono, che viene catturato dal microfono. Il microfono poi ha una sua uscita che di norma è Canon, no? Ha il famoso connettore che ha il cosino qui, qui hai il tuo Canon. Questo Canon appunto abbiamo visto che trasporta i segnali che sono, lasciamo stare la schermatura, un segnale è di fase normale e un segnale è di fase inversa. Quindi se io fossi stato bravo avrei disegnato due segnali che sono perfettamente opposti di fase, dove, cosa che invece ho fatto quando l'ho fatta col computer, l'ho disegnato qui. Ok? Quindi vedi che abbiamo il suono, il microfono, lo cattura, pin caldo, suono fase normale, pin freddo fase invertita. Arriva nel preamplificatore dove c'è un trasformatore che quella di fase invertita la rinverte. Quindi una fase invertita torna a essere una fase normale e quindi si sommano e quindi uno dice, vabbè, qui cosa succede? Abbiamo visto che quando un segnale a 0 dB si somma un altro segnale a 0 dB, si crea un più 3. Quindi cosa vuol dire? Che facendo viaggiare un segnale in fase normale, fase invertita, poi inverto questa fase, questo si somma il volume più alto. Quindi prima di tutto un segnale più alto. Ma la cosa interessante è, qualsiasi rumore dovesse attraversare il nostro cavo, per esempio il cavo passa vicino al trasformatore, piuttosto che il calpestio, qualsiasi cosa, ma anche il rumore, proprio il noise, si trova ad essere uguale sia sul cavo, quindi sul polo 2, sul pin 2, che è il caldo, che sul freddo. Però cosa succede? Che è uguale, è lo stesso segnale elettrico. Quando io col trasformatore, quando vedo qui, nel trasformatore, uno dei due lo inverto, significa che qui ho un segnale e qui ho lo stesso, uno dei due si inverte, quando lo vado a mettere qui si sottrae. Ne può restare veramente una parte infinitesimale. Però questa è la grande cosa. Quando si lavora coi cavi bilanciati, anche sulle grandi lunghezze, oltre ad avere più volume, hai la possibilità di cancellare il rumore e quindi questo significa come risultato un rapporto segnale-rumore elevatissimo. Cioè hai veramente tanto segnale in confronto al poco rumore che hai. Per questo motivo, e ce l'abbiamo sempre anche qui, il rumore, eccetera, la DI box. Cosa succede? Che la chitarra, così come il basso, sono segnali ad alta impedenza. Abbiamo visto che gli input dei preamplificatori hanno questo input apposta, alta impedenza, ma essendo segnali sbilanciati, sono bassi e sono queste le caratteristiche. Un segnale è basso e sbilanciato. Dall'altra parte, un preamplificatore, quando alza, alza tanto il segnale quanto il rumore. Quindi se quando il segnale è basso, io ci metto un rumore, quando vado ad alzare, alzo segnale e rumore. Se un segnale è basso, ma è bilanciato, e quando arriva di qua il trasformatore alza il volume e cancella il rumore, il trucco è fatto. Quindi i bassi, per essere collegati per esempio a un PE, a un impianto, devono fare quindi tanta strada. Se io prendessi il cavo del basso, passivo, ipotizziamo con dei pick-up normali, pick-up passivi, e gli faccio fare i 10, 20, 30, 50, 100 metri, perché a volte fanno anche centinaia di metri i segnali, e lo faccio arrivare fino al mixer così sbilanciato, sarebbe un disastro, perché ha un segnale basso e ha un rumore alto, perché l'impedenza è alta. Allora cosa succede? Si usano le DI box, Direct Inject Box, l'abbiamo già visto, però non abbiamo visto come funziona. Cosa funziona? Abbiamo un jack, e il jack dentro ha un piccolo circuito che permette di uscire dall'XLR con, col pin 2 caldo, fase normale, pin 3, fase invertita. Dall'altra parte, visto che andrà probabilmente in un preamplificatore microfonico, come è logico che sia, il segnale è basso di un basso, quindi è un segnale ad alta impedenza. Dall'altra parte, andando in un segnale e in un input microfonico, può tirare su, ma ha cancellato il rumore grazie all'inversione di fase del pin 3. L'altra cosa che si usa tipicamente sono per le tastiere. La DI box è usata per le tastiere, perché è vero, la tastiera ha un segnale alto, però è comunque a jack, quindi la tastiera va in una DI box. Spesso nella DI box c'è un pulsantino che dice meno 20 o pad, meno 20, quindi la tastiera ha un segnale alto che viene abbassato per non andare a creare saturazioni, diventa bilanciato, va dell'altra parte nel preampl, che spesso è un preampl microfono, ci sono diversi i fonici, c'è uno che preferisce prendere poi il segnale bilanciato e mandarlo nel line, perché il segnale di tastiera è un segnale di linea, altri preferiscono attenuarlo e andare nel segnale nel pre-microfonico perché quel banco suona particolarmente bene, dopo sono scelte stilistiche, ok? Però elettricamente la tastiera esce un segnale di linea, se lo vuoi andare in un preamp microfonico fai meno 20, esce bilanciato, fa tutta la strada che vuoi e il segnale si somma, il rumore si cancella. Quindi questa è la grande forza del segnale bilanciato. Hai tutto quanto scritto nella tua dispensa e spero che questa cosa entusiasmi anche te, almeno quanto entusiasmò me. Ciao.